La ditta Ruggero Benelli Superiride presenta Il lettere ad un'amica Cara Lucy, senti senti cosa ho da raccontarti questa volta E già, figurati che ho accettato l'indito della presidentessa del circolo a partecipare ad un recital di beneficenza Una cosina fine sai, ma è meglio che cominciamo da principio Ho qui le riprese fatte da quel mondano benefico del mio Ricardone Ecco, vedi? Oh ma no, che venitella che sono Qui ero madrina al varo della Qui Jones Ah, un varo veramente riuscito, sì sì, è andato giù che non ti dico Peccato, ah ah Allora ti dicevo, ho partecipato al recital di beneficenza Oddio, cosa da quartieri alti, ma alti sai Bene, ho fatto Shakespeare, il principe, sì l'amleto Ma un po' per il teschio che proprio non mi donava sai E un po' per quel problemaccio dell'essere o non Che poi secondo me una decisione si poteva anche prendere, ti pare? Insomma, non ho dato tutto a me stessa Ma mi sono rifatta sai Ah sì, mi sono rifatta con l'Ofelia Sì, insomma, la svanitella di Amleto Un trionfo, ti dico Dovevi poi vedere il Ricardone nella parte di fantasma del papà Tutto bianco A proposito di bianco Due zero, sette, cinque sei, prato Mi mandi un flacone di super bianco Grazie Dunque ti dicevo, cara Lucy, che sono stata veramente l'anima della serata Ho fatto dell'illusionismo cinese Ho recitato poesie ermetiche Mi sono esibite in esercizi da Fakiro indiano Sì, sì, da Fakiro A parte la modestia, due punti Sono stata eccezionalmente brillante Ma brillante sai Brillante come i pavimenti della mia casa Perché con la Liou I pavimenti brillano, non fanno sdrucciolare Profumano la casa Si possono lavare? E durano ogni più Liou si stende senza fatica con un panno bagnato Liou la cera liquida antisdrucciolevole che dura tre mesi Ditta a Ruggero Benelli, super iride